strada per Esauira oggi lungo la costa atlantica ci sono dei paesaggi meravigliosi ci fermeremo anche a mangiare in un posto sul mare pesce appena pescato il nostro capo di spedizione Mirko si chiama Capogita andando giù verso Safi lei impiadita si presenta come una scogliera alta col mare sotto ogni tanto attratti con la spiaggia nella strada che passa in piedi Poco dopo Safi la strada va sulla costa diventa un'azienda di una magnifica costiera e ogni tanto si esce la strada prosegue lungo la costa e ogni tanto si trova qualche paesino come questo dove si accede alla spiaggia e ci sono dei bei posti e strumentini per mangiare che meravigliosi è fermato lungo la costa a Ouladia qua ci facevamo una bella mangiata di pesce che meravigliosi che meravigliosi sembra di mangiarsi una pescheria sembra di laccare uno scoglio ah è vero anche grazie 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 si può trovare anche nel mezzo di un banco di nebbia sulla costa atlantica del marocco e quello che si vede è questo una strada in mezzo della nebbia a banchi proprio grazie sto camminando lungo la spiaggia di Esawira sono le 7 di sera col sole là dietro che sta tramontando non è affatto male ah ah grazie grazie grazie